Ciao a tutti! Oggi ho organizzato una caccia alle uova per le Cry Babies! Sono veramente contenta e spero che si divertano! Dai, vado a dirglielo! Bimbe, volevo dirvi che oggi vi ho organizzato una caccia alle uova! Sì, che bello! Sì, evviva! Allora, dentro il mio bellissimo zainetto, io ho dei bigliettini con degli indizi! Partiamo che tiro fuori il primo indizio! Wow, che bello! Sono emozionatissima! Anche noi, è bellissimo! Non abbiamo mai fatto una caccia alle uova! Ecco, bimbe, questo è il primo bigliettino! Adesso ve lo apro e vi leggo che cosa c'è scritto! Wow, che bello! Non vedo l'ora! Wow, che bello! Che cosa c'è scritto? Tranquilla, Turwi, ci penso io a leggerlo! Occhio scotta se Connie lo usa, ma ora è freddo con l'anta chiusa! Questo bigliettino parla di me! Ma io adoro usare il forno per fare i dolci! Controlliamo subito, ragazze! Vediamo se è dentro il forno! No, non c'è! Ehi, scusate, ma se nel forno non c'è, l'altra cosa calda può essere il forno a microonde! Vediamo? Sì! Eccolo! Che bello! Ho trovato il primo uovo! Era dentro il forno a microonde! Bravissima, Connie! Adesso che abbiamo trovato il primo, continuiamo con la caccia alle uova! Ed eccoci qui! Adesso vi darò il secondo indizio! Ecco qui! Adesso lo apriamo e lo leggiamo! Tu che adori guardare la tv! Occhio sederti! Guarda giù! Io, io adoro guardare la tv! Sicuramente! Dobbiamo andare lì! Allora, andiamo su! Andiamo a cercare l'uovo! E andiamo! Ed eccoci arrivate su! Prima di guardare la tv... Occhio sederti! Guarda giù! Vediamo! Qui non c'è niente! Vediamo un po' qui! Eccolo! Evviva! Bravissima, Dotti! Se ti fossi seduta sarebbe successo un bel pasticcio! Evviva, evviva! Ho trovato il secondo uovo! Ed ecco qui un altro indizio per voi! Apriamolo e leggiamolo! Vicino alle scale lo potrai trovare! Prima di salire stai a guardare! Vediamo un po', vediamo un po'! Dove può essere? Io non vedo nulla! Le scale, le scale! Vicino alle scale! Guardate! Eccolo! Evviva! Ho trovato il terzo uovo! Sono felicissima! Sì! Oh sì! Io sono l'unica che non ha trovato ancora un uovo! Dai, piccola, stai tranquilla! Vedrai che adesso lo troverai anche tu! Ed ecco qui! L'altro bigliettino! Apriamolo! Con i vostri piedini? Non fate la frittata! Se no, la sorpresa sarà rovinata! Va bene, ok! Però io non so proprio dove potrebbe essere! Ma... Ma qui c'è sotto qualcosa! Evviva! Finalmente anch'io ho trovato il mio vetto! Te l'avevo detto che sarebbe arrivato anche il tuo momento! Non c'era bisogno di fare i capricci! Scusa, scusa, tata, hai ragione! Ok, bimbe! Adesso è il momento di tornare giù in cucina! Perché c'è un'altra sorpresa! Sì, evviva! Sì! Wow, quante uova! Che bello! Siamo felicissime! Ecco, bimbe! Non è finita qui! Tenete, questo è l'altro indizio! C'è scritto... L'ultima sorpresa è gigante! Non aprite l'acqua! Sarebbe allarmante! Wow! Andiamo subito in bagno! Wow! Guardate la vasca! Wow! Wow! Grazie, tata! Yeah! Evviva! Tata, grazie! Che bella caccia alle uova che ci hai fatto! Niente, bimbe! Io l'ho fatto per voi! Che bello! Sono proprio felice che vi sia piaciuta! Ma adesso è giunto il momento di mangiare le uova! Eeeeee! Ciao a tutti! Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video! Ricordatevi di mettere un mi piace se vi è piaciuto il video e iscrivervi al nostro canale! Non perdetevi assolutamente il nostro prossimo episodio! Ciao! Ciao a tutti!